bene amici di telefono.net iniziamo con una macro questo video il solito video test che faccio con tutti i telefoni in questo caso con xperia z1 questo lo zoom ovviamente digitale proviamo andare un po indietro molto veloce lo zoom ho fatto uno zoom out totale proviamo il controsole torniamo a luci più normali e adesso proviamo a andare nel solito ascensore del terrore mi sto muovendo sto camminando stabilizzatore dell'immagine attivato entriamo accompagniamo la porta sennò i condomini sgridano qui c'è veramente molto molto buio molto buio anche le caselle della posta sono molto scure tarpetto nero vediamo se c'è come video ovviamente video che stiamo girando a 1080p ora l'ascensore si guiderà sarà molto buio luci fioche e quando finalmente arriveremo al piano si aprirà la porta come al solito entrerà tanta tanta luce se volete questo pezzo lo potete far andare avanti veloce perché di una noia mortale me ne rendo conto mi sono lamentato con l'amministratore ma l'ascensore più veloce non può andare non sono un buon raccontatore di barzellette quindi non sto qui a tediarvi siamo al terzo piano siamo quasi arrivati pronti alla luce eccoci contro sole pieno velocità di adattamento mi sembra molto buona questo è un vero contro sole perché facciamo sole pieno e ora mi giro e mi fermo con uno zoom sulle torri unicredit per telefona.net alla classica prova di registrazione video il sony z1